E' un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di palla a mano, ben ritrovati, momento clou della stagione per la palla a mano italiana. Si giocano oggi gare 2, le gare di ritorno delle semifinali scudetto maschile con il Bolzano che ospiterà il sorprendente Cassano Magnago che ha vinto gara 1. Altrettanto farà il Pressano che ospiterà la Palavis, il Comersano provando a ribaltare l'esito di gara 1 che ha visto il Comersano di coach Tarafino imporsi nettamente. Approfondiremo il discorso relativo alle semifinali maschile nella seconda parte della trasmissione collegandoci in diretta con Bolzano, con il nostro Matteo Aldamonte che è già lì per la telecronaca che questa sera andrà in onda ore 19.15 appunto la gara tra Bolzano e Cassano Magnago. Prima parte la trasmissione dedicata però all'altra metà del cielo perché se i maschi sono alle semifinali è già cominciata invece la serie di finale nel campionato femminile con la Iommi Salerno che ha vinto gara 1 sul campo della Mechanic System Oderso. Parleremo di questo con un ospite graditissimo, l'azzurra Angela Cappellaro. Grazie Angela per aver raccolto il nostro invito. Intanto subito notizie, news sulle tue condizioni. Ho subito un intervento al ginocchio però sei in pieno recupero ormai. Pronta? Sì, intanto buonasera a tutti. Fortunatamente l'intervento non era di grande entità perché dovevo solo sistemare il menisco per cui è andato tutto per fortuna secondo i piani e ora sono già in fase di riabilitazione per cui prevedo di riprendermi questo. Pronta per rientrare in Norvegia? Sì, decisamente. C'è ancora la Norvegia nel tuo futuro? Sì, sì, sì. Sono conventissima che quella sia la strada per ora che devo continuare per cui appena mi riprendo sarà lì la destinazione. Assolutamente sì. In tempo poi per rispondere presente alle convocazioni azzurre perché da settembre comincerà anche il percorso della nazionale femminile allenata da Neven Ruppets verso la fase finale degli europei 20-20 che si terranno, manco a farla apposta, proprio nel nord Europa, in Danimarca e quindi insomma avrai l'opportunità di poter, qualificandosi l'Italia, è un auspicio, giocare in un habitat che conosci bene. Parliamo però subito di quanto è successo domenica a Oderso. Vediamo subito il servizio e poi ne parliamo con Angela Cappellaro. Valentina Landri e due pali consegnano a Salerno gara 1 di finale scudetto alla Palau Pitergium in casa dell'Oderzo. Episodi sono quelli che decidono una sfida equilibratissima terminata 25-24 e che dà alle campionesse d'Italia il vantaggio nella serie che si trasferirà domenica al Palapalumbo. Fermare le avanzate di Salerno sul nascere era questa la chiave di volta della partita chiesta da Alessandro Cavallaro alle sue giocatrici. Oderso ci riesce per larghi tratti aiutata dal costante apporto di Meneghin tra i pali e in attacco dalla giornata positiva di Giorgia Di Pietro e della solita Duran. La cubana chiuderà con 11 gol MVP della partita ma non basta. Salerno che dimostra di saper soffrire come chi è abituato a vincere supera quella che almeno sulla carta appariva come la prova più difficile della serie. Due parate di Ferrari, il gol del più uno come detto di Landri e uno sfortunato doppio palo di Vitobello a tempo scaduto permettono alle campionesse d'Italia in carica di compiere un passo non da poco verso quello che sarebbe il terzo titolo italiano consecutivo della propria storia. Al Palapalumbo l'atmosfera sarà bollente come consuetudine in queste occasioni. Non facile invece la settimana che attende Oderso chiamata a ricostruire morale e stato fisico per un'impresa mai compiuta negli ultimi due anni. Sì, perché al Palapalumbo ha sempre vinto Salerno. Qualora dovesse accadere anche domenica in diretta su Sport Italia dalle 17 sarebbe scudetto. Diversamente, e cioè in caso di successo delle Venete, tutto sarebbe rinviato a gara 3 del prossimo 21 maggio. Allora già, è stata una bella finale, no? Molto tirata, molto equilibrata, decisa proprio nei secondi finali possiamo dire. Sì, è stata veramente una finale come è giusto che sia, perché quando il risultato è incerto, questo è anche un fattore positivo per il pubblico che guarda. Sia il pubblico che seguiva al Palau Pitergium, sia il pubblico da casa, ascolti record per questa partita, oltre 120.000 spettatori. Questo insomma è un dato che deve confortare il movimento. Sì, sì, sicuramente un valore aggiunto perché significa che la gente è interessata. E questo rende anche più interessante gara 2, dove si deciderà forse la vincitrice oppure... Ecco, che partita è stata, secondo te? Ecco, come l'hai letta, come l'hai seguita anche la casa? Io credo che Oderzo l'abbia affrontata probabilmente con il piede giusto. Gran partita dell'Oderzo, sì. Sì, e anche forse con il piano giusto per provare a mettere in difficoltà Salerno. E provare ad interrompere ogni volta l'attacco ancora al principio e non invece a situazione quasi conclusa. Penso sia una delle carte da giocare per fermare squadre come Oderzo, abituate invece ad un gioco veloce, ad organizzare e poi finalizzare. E anche forse rallentare un po' il ritmo contro una squadra a cui piace correre, penso... Sì, infatti la sensazione è che Salerno abbia fatto proprio fatica a poter giocare sui ritmi che insomma gradisce. Sì, sì, penso che sono state queste le due carte che hanno permesso a Oderzo di rimanere in partita, dire la sua e probabilmente provare poi a rimettere in difficoltà Salerno e perché no strappare gara 3. Assolutamente sì. Vediamo intanto come hanno commentato al termine della partita l'esito di gara 1 i tecnici. Adesso non resta che rimborcarci le maniche, lavorare in settimane per dar filo da torcere a gara 2 lì a Salerno. Sappiamo che non era facile neanche oggi, non sarà facile a Salerno ma noi ci crediamo ancora, ce la metteremo tutta. Assolutamente sì, anche perché quest'oggi credo che la Mechanics System abbia disputato forse la miglior partita stagionale, almeno contro Salerno. Sì, è una gara intensa, tutte e due le squadre tenevano a fare buon risultato e quindi è normale che sia un po' contratti come squadra. Però naturalmente cercheremo di dare del filo da torcere sicuramente a ritorno. Abbiamo iniziato la partita un attimo deconcentrate, abbiamo peccato forse un po' di presunzione, non so. Poi fortunatamente siamo riuscite ad emergere e devo fare complimenti all'Oderzo che comunque ci ha tenuto testa, ha giocato un'ottima palla a mano e ci ha messo in serie difficoltà. Sicuramente sarà una gara altrettanto combattuta come questa di oggi, spero e mi auguro che si chiuda in due gare insomma. Partita, ne parlavamo a microfoni spenti con Angela Cappellano, decisa appunto nelle battute finali. Laddove Meneghin, fin a quel momento protagonista di una grandissima prestazione, ha avuto un legittimo, naturale calo fisico, a differenza di Ferrari che, insomma, non avendo disputato una gran partita, però ha messo le parate decisive nel momento giusto. E lì si è risolta la partita. Probabilmente sì, è stato un fattore decisivo e Barbara ci ha già mostrato le sue capacità e è stato un peccato, forse anche dettato un po' dalla tensione del giocare in casa e ci sta. Mentre Elisa, forse alternandosi di più con l'altro portiere Piantini, ha avuto la possibilità di respirare e di entrare più fresca poi nel momento decisivo. Ecco, hai toccato un argomento importante, quanto può incidere poi, anche a questo punto della stagione, la panchina? Cioè il fatto che Salerno abbia più soluzioni rispetto ad Odezzo, che ha cominciato e terminato la partita con le stesse sette giocatrici. A differenza di Salerno, Rai ci ha ruotato molto le giocatrici a sua disposizione. Beh, sicuramente è un fattore che conta e conta parecchio, soprattutto se poi hai una pananchina che sai gestire, per cui dal momento che i cambi riescono a rendere quanto le persone che poi escono, questo dà grandi vantaggi alla squadra che può usufruire di una panchina più numerosa. Assolutamente sì. Che campionato è stato? Ora attendiamo comunque l'esito di questa serie finale, anche se da lontano. Hai avuto modo però di seguire, segui sempre un po' il campionato italiano. Che campionato è stato e rispetto agli ultimi che abbiamo vissuto hai notato qualche differenza? Sì, è stato un campionato con qualche sorpresa in più, un po' meno scontato forse dei precedenti. Ha visto sicuramente Salerno avere qualche carta in più rispetto alle altre squadre, ma ha anche dimostrato che non è così imbattibile o irraggiungibile. Quindi abbiamo potuto vedere squadre come Bressanone e Oderzo in primis, ma anche c'è stato Brescia o Casalgande nel corso del campionato che sono riusciti a dire la propria e mettere proprio in difficoltà l'attuale comunista. Ecco, tu quindi pensi che questo trend anche in prospettiva futura possa essere in qualche modo confermato? Cioè una crescita progressiva delle squadre che stanno da anni in poi inseguendo la IOMI-Salerno? Sarebbe auspicabile anche per le fortune della palla a mano femminile? Diciamo che è il mio augurio, nel senso che avere un campionato più competitivo non solo nella medio-bassa classifica ma anche nelle prime posizioni garantirebbe sicuramente un livello poi magari maggiore. Garantirebbe probabilmente anche più soluzioni alla nazionale azzurra di cui Angela Cappellaro è da anni colonna, ne parlavamo anche in precedenza perché da settembre comincia l'avventura azzurra, qualificazioni alla fase finale di Euro 2020, Italia nel girone 2 che comprende Montenegro, Lituania ed Ungheria. Insomma non bene particolarmente, però insomma è il destino dell'Italia quella di dover affrontare comunque dei gironi particolarmente impegnativi. Ecco, cosa vi aspettate da queste partite e soprattutto dall'esito di questo girone? Sicuramente sì, la fortuna non è dalla nostra parte, è nei sorteggi e ci aspettiamo tutte partite di alto livello. Esordio in Montenegro a settembre, poi prima casalinga contro l'Ungheria, così per gradire. Esattamente, per cui credo che per noi sia fondamentale concentrarsi su noi stesse, cercare di avere un programma che ci permetta di arrivare lì preparate sapendo quali sono le nostre carte da giocare e poi cercare di farle al meglio. Quindi sappiamo i valori delle avversarie, ma dobbiamo concentrarci anche su quello che sono poi... Ecco, quanto può crescere secondo te la vostra nazionale? Avete avuto insomma anche un rendimento abbastanza alterneante, probabilmente anche figlio di stagioni abbastanza diverse, molte giocatrici che giocano all'estero, altre che giocano in italiano, non sempre avete lo stesso grado di forma quando riuscite a radunarvi. Questo è sicuramente un elemento che deve essere tenuto in considerazione tanto più a settembre quando soprattutto in Italia la stagione è praticamente agli albori. Sì, io credo che ci serva sia una nazionale che può fare ancora e portare qualche risultato. Anche perché è una nazionale giovane ancora, no? Sì, sì, sì. E proprio per questo abbiamo anche bisogno di una guida che ci indichi la strada, il percorso giusto da fare e con le giuste tempistiche. Per cui secondo me con un buon programma possiamo toglierci anche noi soddisfazioni che magari finora non sono arrivate. Assolutamente sì. Tanto a proposito di programma e di guida tecnica segnaliamo, giusto sottolinearlo, il risultato ottenuto dal coach della Nazionale Azzurra, Neymar Ruppets, che è stato sconfitto in finale, è arrivato però fino in finale di Challenge Cup perdendo contro Gran Canaria, ha perso gara 1, ha vinto gara 2, poi nel compito della differenza Gran Canaria si è imposta nella Challenge. comunque è un onorevole secondo posto per il pogon di Ruppets e di Monica Pruster, insomma, per rimanere in azzurro. Un bel risultato. Sì, sì, e soprattutto giocare partite come quelle e finali internazionali danno la possibilità di rendersi conto di qual è il livello che poi ci aspetta al di fuori dei confini italiani, per cui è stato... che tu conosci molto bene. Allora, prima di andare in pubblicità e poi soffermare la nostra attenzione sulle gare di semifinale maschile, vediamo il calendario, insomma, i prossimi impegni, questo è il quadro, gli archivi gara 1 di finale Scudetto con Salerno che si è imposta di misura a Doderso, domenica, gara 2, diretta a Sport Italia a partire dalle 17, si gioca alla Palapalumbo di Salerno, Iomi Salerno contro Mechanic System, Oderso, eventuale gara 3 nella giornata di martedì, capiremo domenica quale sarà l'esito di questa finale Scudetto. Ora ci fermiamo a pochi istanti di pausa e ritorniamo poi in studio. Cerchi un posto dove poter soddisfare la tua voglia di tennis da mattina a sera? Dove poter vivere ogni singolo giorno una nuova esperienza di vita a 360 gradi? Pensi a un luogo magico, dove poter scambiare emozioni, sorrisi, sogni e tanto, tanto divertimento? Quello che cerchi siamo noi! Vai sul sito Fit Centri Estivi e realizza i tuoi desideri! Centri Estivi Fit, gioca, cresci, vinci! Seconda parte di Handball Mania, dedicata alle gare che si disputano tra poche ore, gare 2 di semifinale Scudetto alle 19.15 in campo al Palagesteiner, Bolzano e Cassano, alle 20.30 invece sarà la volta di Pressano e Commessano, alle 19.00 in diretta qui su Sport Italia, la telecronaca del match tra la formazione Alta Tesina e la sorprendente squadra allenata da Davide Colez, il giovane Cassano Magnaco. Ti aspettavi la vittoria del Cassano in gara 1 o sei tra coloro i quali immaginavano comunque una sorpresa, considerando un po' il trend mantenuto dal Cassano in questa stagione? Sì, io sono un po' tra le persone sorprese dal risultato, però questo penso sia un risultato positivo e anche interessante, perché mantiene tutti i giochi aperti e costringe il Bolzano a fare il risultato. Assolutamente sì, a dover ricorrere necessariamente alla gara di Bella per poter raggiungere la finale Scudetto, aperto anche il discorso tra Pressano e Commessano, un Commessano si è imposto nettamente dando dimostrazione di un'ottima condizione fisica in gara 1, questa sera al Palavis però il Pressano proverà a rimandare tutto alla terza e decisiva gara di Bella, ecco per discutere e approfondire i temi legati alle due partite ci colleghiamo in diretta con Bolzano dove c'è per noi Matteo Aldamonte, a te la linea Matteo, poi ritorniamo in studio per le considerazioni finali. Sì, grazie Marcello, tra pochissimo, tra qualche ora a Bolzano si affronteranno proprio la formazione di casa ed il Cassano Magnaco per gara 2 di semifinale Scudetto, noi siamo all'interno del centro commerciale 20 per presentare la partita con Dejan Turkovic e Hans Dalvai della società, direttore sportivo dell'SSV Ubozen, inizierei da te per presentare questa partita, appuntamento importante con il Cassano Magnaco che parte 1-0 nella serie. Assolutamente, importantissimo, noi partiamo comunque con il svantaggio di aver perso la prima partita, devo dire, fare un complimento al Cassano che ha giocato una partita perfetta contro di noi, noi entriamo sempre in campo per vincere chiaramente, però forse l'abbiamo preso un po' sotto gamba questa partita, abbiamo perso di uno e stasera speriamo di rifarci. Dejan, vi ha un po' sorpresi il Cassano, eppure è una squadra che conoscevate perché l'avevate già affrontata in campionato, avevate sempre vinto. Sì, abbiamo sempre vinto, ma direi una bugia se dicessi che non ci hanno sorpreso, perché vedendo che 60 minuti abbiamo attaccato malissimo la loro 5-1 spostata, direi una bugia, ci hanno sorpreso un po' e comunque adesso ci siamo sicuramente preparati molto meglio a tutte le difese che ci possiamo aspettare. È una partita che merita e meriterà le attenzioni del match of the week, di fatto perché la seguiremo in diretta su Sport Italia, qui a partire dalle 19 con collegamento dal Palaga e Steiner, non solo Bolzano-Cassano-Magnaco, però perché si affrontano anche il pressano e il conversano al Palavis. Allora, vediamo insieme il servizio per fare il punto, tracciare un po' il quadro di questa giornata di semifinale, turno infrasettimanale molto interessante, si gioca a gara 2, vediamo insieme che cosa ci aspetta. Un inusuale e bellissimo giovedì attende i play-off della Serie A1 maschile. Nel raggio di 50 km fra il Palaga e Steiner di Bolzano e il Palavis di Lavis si giocano le gare due di semifinale scudetto che potrebbero chiudere la serie e decidere, senza passare per la bella, le finaliste per il cinquantesimo scudetto della pallamano italiana. Più che alla vigilia del primo round, fare pronostici questa volta è assolutamente impossibile. In gara 1 ha vinto chi giocava in casa, con Versano e Cassano Magnago, sorprendente, forse in parte, se non altro perché si parlava delle squadre che arrivavano dalla seconda metà del tabellone, dalla terza e dalla quarta posizione. Alla capolista Bolzano e al Pressano, già finalista in Coppa Italia, ha il compito di prolungare la durata di questo emozionante rush finale della stagione. Il programma si aprirà alla Palaga e Steiner e soprattutto in diretta TV su Sport Italia. Il bolzano del tecnico Boris Vorsek è costretto a vincere, rimettere in ordine le idee è stato l'imperativo di questi pochi giorni a disposizione di Gaeta e compagni. Dall'altra parte i cassanesi di Davide Colec e dell'ex Alessio Moretti, ora col morale a mille dopo un'impresa storica confezionata al Palatacca, che rischierebbe però di diventare vana senza chiudere i conti in terra alto a tesina. Ugualmente incerto l'esito della serie tra Pressano e Conversano. Al Palasan Giacomo la prestazione offerta dai pugliesi è stata perfetta. 27-21 sono i numeri, le cifre di un divario netto marcato, ma Pressano ha dimostrato di sbagliare poco o nulla quando più conta e la posta in palio. Stasera alle 20.30 in live streaming su Palamano TV è di quelle alte. Lo scarto di gara 1 non conta, Conversano può vincere o pareggiare per centrare la seconda finale consecutiva, mentre i trentini di Branco-Dumnic hanno la vittoria come unica alternativa. E dunque abbiamo visto insieme il servizio per tracciare un po' il quadro. Bella realtà questo Cassano Magnago. Assolutamente, è una bella realtà, è un bellissimo settore giovanile, anche femminile. Da quando gioco a Palamano praticamente li conosco, erano anche i campioni d'Italia tanti anni fa, con un Balic ancora. Sono sempre rimasti lì complimenti al lavoro che sta facendo la società. Deanna, però gli addetti ai lavori continuano a dare, soprattutto perché avete il vantaggio di gara 2 e l'eventuale, poi bella in casa, i favori del pronostico dal lato di Bolzano. Tu cosa ne pensi? Voi vi sentite questa pressione questa sera? O forse il Cassano Magnago potrebbe avvertire un pochino la paura di vincere? Ma innanzitutto direi che loro adesso non hanno niente da perdere, perché adesso hanno due gare, speriamo due, anzi speriamo che si va sabato in gara 3. però non hanno, come ho detto, non hanno niente da perdere, non dovrebbero sentire tanto la pressione. Invece dalla nostra parte, noi comunque andava l'andata, oggi la dovevamo vincere, sia se lì avessimo vinto o come abbiamo perso. Un leggero vantaggio forse lo darei a noi perché giochiamo in casa, siamo abituati a giocare molto di più queste partite importanti, però ogni gara per sé, se ripetiamo la partita d'andata, sarà dura. Ieri sera chiacchieravo, ero al Vis e durante l'allenamento del conversano, chiacchieravo un po' con Pasquale Maione che mi ha detto di aver sentito Moretti ma di non aver sentito voi, compagni di nazionale del Bolzano, perché mi diceva so che cosa si prova magari in questi momenti difficili, ho evitato di sentirli. Vi siete detti qualcosa in questi giorni, soprattutto voi giocatori che fate parte da sempre di questo gruppo storico di Bolzano e che avete vinto tutto tante volte? Sì, praticamente stasera per noi è come una finale, dobbiamo giocare come entrare concentrati dal primo minuto, dal primo minuto far vedere che giochiamo in casa, non dico dare il massimo perché quello lo facciamo sempre, ma entrare con la testa giusta e sfruttare quest'occasione per giocare un'altra finale. Cassano che batte Bolzano, che intanto aveva già vinto la Coppa Italia, in regular season ha dato la dimostrazione di essere la squadra più forte del campionato, almeno insomma durante tutto l'arco della stagione fino ad ora, ma dicevo questo risultato è la dimostrazione comunque di un campionato molto equilibrato, molto combattuto anche nella semifinale di chi arrivava dal quarto posto e è riuscito a battere la squadra che aveva vinto la regular season. Assolutamente sì, è molto molto equilibrato questo campionato e anche già quando abbiamo giocato a Cassano la prima partita in campionato abbiamo perso solo di uno praticamente e devo dire che Cassano è la più forte squadra in casa perché loro in casa hanno perso meno partite e tutti gli altri hanno perso di più in casa. Qua hanno giocato una partita ancora più perfetta che la prima e il risultato gli ha dato ragione alla fine. Assolutamente sì, deve vincere anche il Pressano al Palavis per riequilibrare le sorti del duello contro il Conversano dopo la sconfitta 27-21 al Palas San Giacomo in gara 1. I pugliesi invece proveranno a chiudere la serie, la gara alle 20.30 è in diretta su Palamano TV. Nella giornata di ieri abbiamo ascoltato Branko Dumric e Alessandro Tarafino, i due allenatori, vediamo cosa ci hanno detto e poi ne parliamo con Turcovic e Dalvai. Sì, certo, come hai detto, dobbiamo vincere oggi per arrivare all'eventuale bella terza sabato. Abbiamo preparato abbastanza bene le partite, abbiamo analizzato la partita quella di sabato che abbiamo perso al Conversano e credo che possiamo fare bene oggi. Su che cosa hai lavorato in questi giorni? Che tasti mentali soprattutto hai toccato dei tuoi giocatori? Se ce n'è bisogno, perché magari in partite così le motivazioni sono già forti, immagino. Sì, ma ci vuole anche proprio questo, di convincere che possiamo fare bene, che possiamo vincere e arrivare all'eventuale bella sabato. Ripeto, abbiamo fatto qualcosa anche di tattica, ma più che abbiamo parlato, preparato psicologicamente ragazzi. Non dobbiamo pensare alla gara 1 fatta a Conversano, è una partita nuova sicuramente, si riparte da 0 a 0. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco pensando solamente al campo, senza pensare alle conseguenze, a quello che sarà un'eventuale vittoria, anche un'eventuale sconfitta, quindi senza pensare a quello che succederà dopo, ma solamente al presente. Che cosa dirai, come affrontare da un punto di vista mentale questa partita? Queste partite bisogna giocarle bene innanzitutto, bisogna imporre il proprio gioco, bisogna aver fatto un percorso anche alle spalle di crescita, come abbiamo fatto noi, che ti permetta poi di arrivare puntuale a queste partite, preparato e pronto per affrontarle. Quindi non è una cosa che si può dire nasca e finisca in questa partita, ma ci deve essere stato alle spalle tutto un percorso netto, come abbiamo fatto noi. Immagino, e la domanda vale per entrambi, che la vostra testa sia chiaramente proiettata alla vostra partita, però anche la vittoria di Conversano è stato un bel segnale, e quella forse era la semifinale che ci aspettavamo più equilibrata, stasera a Conversano deve vincere per forza. Assolutamente sì, loro anche in casa hanno il pubblico a favore, e penso che per quella partita sia un leggero vantaggio per il Pressano, poi chiaramente dovendo vincere due partite in fila, anche se giochi a casa, è sempre un'incognita, vediamo, anche noi ci concentriamo alla nostra, però con un occhio guardiamo anche quella partita là, perché dovessimo vincere sarebbero il nostro prossimo avversario. Sì, Dejan, due squadre che conosci e conoscete molto bene. Due squadre molto equilibrate, sono praticamente alla pari, un leggero vantaggio al Conversano, perché ha vinto la prima, adesso loro, a differenza nostra, hanno due partite dove si possono permettere anche qualche errore in più, però sarà equilibrato, e poi dipende da tante piccole cose, ma come hai detto te, noi guardiamo, soprattutto oggi dobbiamo essere concentrati per noi, e poi vediamo cosa succederà. Vedremo, questo giovedì potrebbe darci i nomi delle due finaliste, o eventualmente rinviare tutto a sabato, quando si giocheranno le eventuali due belle, le eventuali due gare tre, in quel caso ancora negli stessi campi di stasera, ovvero in caso di vittoria del Pressano, ancora al Palavis, gara tre contro Conversano, in caso di vittoria del Bolzano, gara tre al Palagesteiner, tra Bolzano e Cassano Magnago. L'appuntamento però è per questa sera, alle 19 il collegamento su Sport Italia, ascolteremo i due tecnici, Vorsec e Kolec, alle 19.15 il fischio d'apertura, per questa super sfida, gara due di semifinale Scudetto, in campo, da una parte il Bolzano padrone di casa, dall'altra il Cassano Magnago. A te la linea Marcello. Grazie, grazie Matteo. Allora non ci resta che attendere, insomma, poche ore, per capire, insomma, se le due gare di semifinale avranno un seguito e dunque bisognerà arrivare alla terza e decisiva gara di Bella oppure il discorso si chiuderà quest'oggi. Dicevi prima di collegarci in diretta con Matteo di Cassano e di Bolzano, invece per Pressano Conversano? Mi aspettavo forse di più la vittoria del Conversano e se devo azzardare, però non la togliere all'avversaria, mi aspetto forse la vittoria del Conversano anche stasera. Sì, Conversano in grandissima forma. Staremo a vedere anche perché Blanco Dumnici è sempre abituato a rinfilare sorprese proprio nei momenti più difficili. Allora, prima di salutare Angela Cappellaro diamo uno sguardo anche in questo caso al nostro palinsesto. perché come potete vedere tra poche ore la gara diretta Sport Italia tra Bolzano e Cassano Magnaco, poi Pallamano TV 20 e 30 Pressano Conversano con la telecronica di Luca Zadra e poi capiremo se ci sarà gara 3 tra Pressano e Conversano. questo lo scopriremo soltanto al termine della partita di questa sera. Vi rinnovo poi l'appuntamento per la gara 2 di finale Scudetto domenica dalla Palapalumbo di Salerno a partire dalle 17. grazie ad Angela Cappellaro bocca al lupo insomma vogliamo presto rivederti sul parquet per dare sfogo a tutta la tua grandissima passione per la Pallamano. Grazie ancora Angela grazie a voi per aver raccolto il nostro invito grazie a tutti un ringraziamento particolare a Sabrina Alessio in redazione Handball Mania ritorna come sempre giovedì prossimo sempre alla stessa ora rivederci. Dove l'ammessa? All'incrocio dei pali un gol pazzesco! Oh! 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 Oh!